Egitto esplode in volo una mongolfiera Luxor e precipita con 20 turisti a bordo. Secondo una fonte della sicurezza egiziana, le vittime sarebbero 19, tra cui francesi, britannici e giapponesi. Un passeggero e il pilota sarebbero sopravvissuti, riferisce un portavoce delle compagnie di mongolfiere, secondo il quale l'esplosione sarebbe avvenuta a 300 metri di altezza. Ancora ignote le cause e la dinamica dell'incidente.